Ciao a tutti e bentornati a Guida Scientifica per Autostoppisti. Quest'oggi parleremo di qualcosa di diverso, qualcosa su cui si discute molto, specialmente in questo periodo, ma su cui c'è ancora molta confusione e scetticismo. Beh, questo video servirà a spiegarvi nel modo più semplice e chiaro come nasce un vaccino e come ci aiuta dall'interno a proteggerci da malattie anche mortali. Pronti? Iniziamo! Possiamo far risalire le origini del vaccino al 1796, da parte di un uomo di nome Edward Jenner. Jenner osservò come le mungitrici che contraevano il vaiolo bovino, ovvero una forma molto più debole del vaiolo umano, e ne guarivano, non contraevano mai più quest'ultimo. Attraverso questa ipotesi decise di iniettare del materiale preso dalla pustola di vaiolo bovino in un bambino di 8 anni, e infatti la malattia non si sviluppò. Il nome vaccino, infatti, venne cognato da Jenner, che chiamava così il materiale pustolare del bovino. Ma perché funzionò? Come è possibile che facendo ammalare qualcuno, quello invece diventa immune alla malattia? Come sapete, ogni organismo ha l'obiettivo primario di proteggere la sua esistenza, e, negli esseri 20 più sviluppati, come noi, si è venuto a creare tramite l'evoluzione un vero e proprio sistema immunitario. Possiamo immaginare il nostro sistema immunitario come una fitta rete composta da cellule e reazioni chimiche e processi biologici, il cui scopo è difendere l'organismo da qualsiasi danno alla sua integrità. Quando un agente esterno entra nel nostro corpo e viene rilevata la sua minaccia, il sistema immunitario cerca, il prima possibile, di arginare i danni ed eliminarlo, ma non solo. Una volta eliminato, scatta un meccanismo chiamato memoria immunologica. Esso consente al sistema immunitario, attraverso cellule speciali chiamate cellule memoria, di ricordarsi dell'intruso, ma soprattutto di ricordarsi quale anticorpi creare per sconfiggerlo. Quindi, se un agente patogeno infetta l'organismo più di una volta, queste cellule di memoria specifiche vengono utilizzate per eliminarlo rapidamente. Quindi questo è il concetto che sta alla base del funzionamento dei vaccini. Ma manca qualcosa. Ovviamente non ci mettiamo un virus o un batterio mortale nel corpo, altrimenti moriremmo prima ancora di diventare immuni. Quindi come si crea un vaccino? Ne esistono diverse modalità e adesso ne andremo a vedere due tra le più importanti. Vaccini attenuati Questo tipo di vaccini utilizza virus o batteri ancora vivi, ma resi innocui o meno pericolosi del normale. Alcuni esempi sono il vaccino contro la poliomielite, la febbre gialla e il morbillo. Vengono creati coltivando il patogeno e selezionando il ceppo da usare in base alla loro capacità replicativa. Nel caso dei virus, ad esempio, quelli che possiedono un basso tasso di replicazione all'interno di cellule umane, sono scelti perché causano molti meno danni al nostro organismo. Nel caso dei vaccini con batteri attenuati o uccisi, invece, sono meno efficaci di quelli composti dai virus, dato che la protezione e la durata di immunità sono inferiori. Però questi vaccini attenuati possono nascondere un pericolo. Il maggior difetto è che possono tornare alla loro forma aggressiva, in gergo virulenta. Nei virus, nonostante i ceppi vengano selezionati con cura, è possibile, in rarissimi casi, che avvengano a mutazione in grado di riportarli a uno stadio più aggressivo. Infatti, in molti paesi sono stati sostituiti vecchi vaccini attenuati con quelli nuovi inattivanti. Vaccini inattivati I vaccini inattivati vengono prodotti trattando gli organismi patogeni in modo da non farli più replicare, bloccando la loro sintesi proteica. La sintesi proteica è un processo che porta alla produzione di proteine che svolgono svariate funzioni all'interno della cellula, e per inattivarla solitamente nei laboratori si ricorre all'utilizzo della formaldeide. Questo blocco della sintesi proteica, però, rende più difficile la produzione di anticorpi da parte del nostro organismo. Infatti, a differenza dei vaccini attenuati, richiedono ripetuti richiami per mantenere il nostro organismo immune al patogeno, ma sono molto più sicuri, visto che non possono regredire al loro stato virulento. Alcuni tempi sono il vaccino antinfluenzale, il vaccino antipolera e il vaccino antiepatite A. Ovviamente i vaccini non sono formati solo dal patogeno modificato, ma anche da antibiotici, adiuvanti e proteine carrie. Semplificando il tutto e tralasciando l'antibiotico, l'adiuvante è un composto in grado di stimolare il sistema immunitario e aiutare la produzione degli anticorpi al vaccino, mentre le proteine e le alte carrie aiutano le molecole del composto a entrare nelle cellule. Come ovvio, non sono presenti microchip o nanobot in grado di controllarci a distanza. Questo perché l'unico obiettivo dei vaccini è immunizzare il maggior numero di organismi, al fine di debellare completamente le malattie. Un esempio è il vaiolo, la cui eradicazione è stata completata nel 1977, grazie a una campagna di vaccinazione di massa. Ovviamente vengono fatte molte sperimentazioni prima di mettere in commercio un vaccino, ma come detto prima, esiste una minima probabilità di reversione del patogeno. Ma queste complicanze, estremamente rare, non influiscono sull'efficacia della vaccinazione. In più, bisogna ricordare che questi effetti collaterali sono comunque molto più deboli dalla malattia da cui il vaccino ci protegge. In più, vorrei ricordare che non esiste alcuna prova che possano causare autismo o sindromi autoimmuni. Invece, possono proteggere le persone immunodepresse, ma solo se ci vacciniamo tutti e creiamo la cosiddetta immunità di gregge. Quindi fidatevi dei vaccini e cercate informazioni da siti o da articoli ufficiali, ma soprattutto verificate sempre che siano vere, così da non incontrare notizie stupide e false che potrebbero solo farvi del male.